Mezzo milione di euro per garantire la copertura per la telefonia mobile sull'intero massiccio del Grappa. È quanto si impegna a garantire la regione dopo le numerose lamentele non solo dei cittadini, ma anche dei rappresentanti delle associazioni identiche gravitano sul Grappa. A Campocroce si sta muovendo un comitato apposito che sta avviando una raccolta firme e negli ultimi giorni si è attivata l'Unione dei Comuni che ha illustrato la questione spinosa ai politici veneti. Qualche barlume di speranza c'è. L'assessore regionale dell'agricoltura Giuseppe Panna ha confermato che il problema della telefonia sul Grappa è inserito nel piano di sviluppo rurale, quindi verrà risolto quanto prima.